Deathmatch a squadre Prophet pronto a intervenire Non intralciarmi, Prophet Combattete uniti, isolare e distruggere Minaccia risolta Centro Addio Avvio stile in sorvolo Avvio stile in sorvolo Avvio stile in sorvolo Avvio stile in sorvolo Radar disattivato Avvio stile in sorvolo 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 U.A.V. in arrivo Approvvigionamento in arrivo Materi sconfitta U.A.V. di disturbo alleato in arrivo Cerberus in arrivo U.A.V. alleato in arrivo Raite in arrivo Approvvigionamento in arrivo Versaglio a terra Arriva un HC-XD Macchina da guerra, frutta Rapprovvigionamento in arrivo 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 Sì, è vero. Cerberus alleato in arrivo Sono fritti Pazzesco Raid alleato nell'area operativa Siamo in testa, vediamo di restarci UAV in arrivo UAV alleato in arrivo Sparito La nostra fama è il miglior deterrente Bravi Eh? Abbiamo già finito? Pensavate di fregarmi Sono sempre un passo avanti Grazie a tutti Grazie a tutti.